E allora salvo a tutti cari ragazzi e bentornati un'altra volta in compagnia del vostro Guerzo86 oggi andiamo a fare un video unboxing e sto parlando del Lenovo Vibe Shot Lenovo Vibe Shot che abbiamo visto all'interno del Mobile World Congress di Barcellona è uno smartphone che all'apparenza potrebbe magari sembrare di fascia media ma invece c'è tanto dietro a questo smartphone abbiamo un processore Snapdragon 6 e 15 ma soprattutto abbiamo una caratteristica fondamentale su questo telefono ovvero è stato definito dagli addetti lavori ma soprattutto da chi ha partecipato al Mobile World Congress come il camera phone per eccellenza targato Lenovo nonché anche targato Cina dispositivo chiaramente dual sim dispositivo che a bordo ha veramente qualcosa di particolare in primis il display 5 pollici risoluzione full HD poi abbiamo 3 GB di RAM con 32 GB di memoria interna Android Lollipop 5.0 con la Vibe UI 2.0 rivista finalmente da Lenovo fotocamera 16 MB posteriore, 8 MB anteriore, batteria da 3000 mAh andiamo subito a spacchettare questo dispositivo che chiaramente nemmeno a dirvelo ci arriva da grossoshop.net che come sempre ringraziamo guardiamo subito il terminale, terminale che con questo frame assomiglia tanto a un Sony attenzione abbiamo anche il tasto scatto nonché abbiamo anche il tastino per effettuare una foto in modalità pro o in modalità automatico già da qui capite quanto Lenovo abbia lavorato all'interno di questo smartphone per il reparto fotocamera all'interno del box della confezione troviamo e lo si può vedere anche qui manuale di istruzione nonché sfiletta per andare ad aprire vari carrellini troviamo un cavo piatto anti ingarbugliamento con USB micro USB in formato 2.0 chiaramente il connettore può fare anche da OTG all'interno troviamo il caricabatterie da parete in formato cinese ma non vi preoccupate perché chiaramente grossoshop.net ci metterà in confezione l'adattatore per la presa italiana e poi come si può vedere anche in questo video unboxing non troviamo assolutamente nient'altro all'interno della confezione c'è qui un altro scomparto ma non c'è niente al suo interno richiudiamo il tutto in maniera molto precisa perché vedete anche l'attenzione nella scatolina di Lenovo un box secondo me interessante anche per via del suo formato un po' strano allora avviciniamo un attimino la telecamera per vedere più da vicino questo vibe di Lenovo allora più da vicino potete già vedere come questo vibe di Lenovo sia un dispositivo interessantissimo per i vari frame per il frame per insomma quello che è questo terminale allora andiamo un attimino a rimuovere la pellicola protettiva e lo facciamo attraverso questo sigillino qua del open eccolo qua nonché anche abbiamo una pellicola premontata all'interno di questo vibe andiamo a vedere subito il retro la parte posteriore di questo dispositivo andando a mettere a fuoco con la nostra videocamera guardate già il primo dettaglio triplo flash led attenzione ragazzi triplo flash led avete ben capito guardate anche il tasto per andare a attivare o meno la modalità di scatto pro eccolo qua il tastino dove c'è la modalità automatico oppure modalità pro il frame è molto bello molto ben costruito lo si può vedere qui abbiamo anche addirittura lo spazio per il lacino da polso cosa che non vedevo da tantissimo tempo all'interno di uno smartphone e qui invece abbiamo tutto quello che è l'ingresso delle varie sim poi vedremo successivamente all'interno della video recensione il tutto mi è appena arrivato l'ho appena spacchettato davanti a voi e quindi anche io sono un po' titubante su quello che andrò a trovare se la micro sd o meno all'interno di questo dispositivo è disponibile in varie colorazioni lo vedrete anche all'interno del sito grossoshop.net abbiamo detto android a bordo in versione 5.0 per questo lenovo può essere un best buy intanto vi dico il prezzo disponibile attualmente sul sito 320 euro vi aspetta all'interno dei commenti per sapere quello che voi mi volete chiedere all'interno di questa video recensione che arriverà dopo alcuni giorni di test visto che è stato proclamato uno dei best camera phone lo andremo a vedere nel dettaglio insieme all'interno di prove molto più approfondite per oggi è tutto cari ragazzi un saluto da Postwars86 a postwars86